10.000 mi piace su questo video o arriviamo a 525.000 iscritti e vi porto un altro scherzo epico al buon Fabio approfittatene c'è il 40% di voi che su questo canale segue sempre i video ma ancora non sei iscritto se attivate la campanella non vi perdete più niente dice che hai fatto lo avrete già capito dal titolo mi sono comprato per me stesso circa 1000 euro di cose della Roma e ho fatto credere al buon Fabio che era il suo regalo di compleanno anticipato quindi state per assistere allo spacchettamento di tutti quei regali che in realtà regali suoi non sono potete vedere e potete ben immaginare quella che sarà la sua reazione detto questo buona visione e vai col video allora quando vedete una scena di questo tipo aspetta mi riesco a chiudere la porta ormai sapete ricordate che c'ha il microfono che cosa dobbiamo fare sì ma io non so più cosa aspettarmi è questo il problema io ti dico solo questo questo è un regalo anticipato ma anticipato non significa che poi te lo rifarò per il compleanno fatti bastare questo regalo fino all'anno prossimo il prossimo anno il suo compleanno è il 22 novembre io ho giocato d'anticipo perché è una cosa che ti una cosa un mese e mezzo più di qualcosa che ti può tornare utile più di qualcosa addirittura sì e beh sono due scatoloni di conseguenza fatti bastare tutto quello che stai per ricevere salutiamo innanzitutto ciao ragazzi e ben ritrovati però io me l'ho fatto un'idea pensavo che uno era mio l'altro era tuo no ti devo dire la verità ma tanto poi lo scopri dentro c'è una cosa mia ma tanto lo sai lo immaginavo che è mia perché lo capisci ok perfetto e va bene detto questo allora sfondate il tasto dei mi piace no per altri regali al buon Fabio no però sfondate il tasto dei mi piace sì se il video vi è piaciuto detto questo se vi è piaciuto lasciate dislike è uguale non fa niente iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi più neanche un nostro contenuto road to 400.000 iscritti invece torniamo indietro quello è un attimo non c'ho niente dipende tutto da voi regà aiutateci a raggiungere un obiettivo ad oggi impossibile due canali di calcio un canale extra calcio in descrizione compariranno qui durante il video cosa c'è scritto qui due e uno e qui quale ti verrebbe voglia di aprire leggendo i numeri andando in ordine l'uno e allora apri il numero due ah ok bene allora no però aspetta tu devi scavicchiare ma non aprire scavicchi ma non apra significa che alzi la linguetta non guardi dentro guarda me metti la mano e prendi la prima cosa che senti più in superficie e la tiri fuori ok non guardare vabbè non mi hai detto di non guardare però mi hai detto ho detto non guardare mi hai detto dopo quando ormai stavo già tirando fuori non strigliamo perché abbiamo il microfono posso tirare fuori posso anche guardare no tira fuori e guarda vai vai falla vedere aspetta ma tanto non l'hai visto no è una felpa della S Roma è un po' sgualcita ma se è sgualcita poi va lavata ovviamente si lava ma c'è anche il cappuccio si si una felpa invernale bellissima che poi tra l'altro io ho la stessa maglietta a maniche corte che sto utilizzando a casa mia dell'A ok bellissima bella ti piace? bellissima si 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 meravigliosa passa al secondo meravigliosa voto? alla felpa voto 10 ok perfetto voto 10 andiamo avanti stessa cosa prendi si sulla sinistra prendi tira fuori eh mi pare una maglietta? si per forza una maglietta può essere a meno che ho fatto lo sciugamano no bellissima bellissima la Dybala Collection ovviamente official S della S Roma qualcuno potrebbe pensare dice ma si dice ma queste sono cose che ti ha regalate a Roma no no cacciato i sordi non mi ha regalato niente a Roma cacciamo gli sordi ragazzi quindi è tutto di tasca mia bella sappilo ok bellissima ok la Dybala Collection è andata e anche questa ragazzi va benissimo un bel voto 10 ok questa per questo periodo sicuramente ma sfrutto quando sarà un po' più freddo questa andrà sotto alla felpa va bene poi proprio per restare proprio tira fuori ecco non guardare ovviamente vai ha preso no quella la prendila dopo quella prendi prima quella che senti che senti di no 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 ce n'è un'altra mamma mia ecco quella devi prendere quell'altra rimettila apposta ma tu mi credi che non sto a guardare vai questa mamma mia questa non poteva mancare questa non poteva mancare non poteva mancare bella bellissima forza direi che non è niente male no mamma mia romelone soprattutto romelone ragazzi c'è la mappa ho visto la patch della seria bellissima c'è la patch della seria insomma parliamo meravigliosa falla vedere davanti meravigliosa ragazzi qua è da facciare mettere il nuovo sponsor arrivate a sto punto ho visto che è si che manca a farla apposta è stato appena presentato appena presentato però te posso dire ah preferisco così ah ok voto 10 perfetto e stiamo già basta che c'è scritto spqr perché voto 30 perché non ti piace no non ci abbiamo proprio una statistica favorevolissima in termini dei punti vai vai ma quale dobbia quella questa qua con le messa apposto per ultima è questa questa vai non immaginavo si ma ce l'ha busata lo vede per forza no aprila cioè nel senso no immaginavo che erate di bala l'hai spoilerato non l'hai fatta vedere eccola no vabbè no vabbè ragazzi che meraviglia alla luce volevo far vedere ragazzi no vabbè splendida i dettagli e i particolari perché guarda te posso di vedi che c'è nel numero ragazzi ecco adesso si nota c'è un rilievo ma c'è il rilievo del della parte davanti della parte anteriore della maglia ecco eppure della parte superiore vedete comunque oh hai detto spqr eccola questa ho fatta così allora aspetta un attimo un conto è la maglia principale eccetera questa è comunque la seconda e ci può anche stare perché comunque va a cambiare però per quanto poi non verrà più utilizzato spqr te lo ricordo perché ormai c'è il nuovo sponsor non verrà più manca a fare apposta al tempo che mi arriva e giustamente mettono un nuovo sponsor non fa niente ma è fantastica è spettacolare è ancora più bella dal vivo che in televisione è splendida è splendida ragazzi è uno spettacolo lasciate stare che è un po' sgualcita ma comunque arriva in termini di spedizione vai fantastica voto 10 ok e quindi secondo te che c'è sta qua dentro allora è impacchettata come questa c'è sta un'altra maglia nera guarda no guarda tira fuori e non guarda no vabbè no lorenzo no ma questa è pellegrini ragazzi ma questa ma qua si sono superati questa è e quanto la prima è stupenda la seconda è stupenda ma ragazzi miei questa è un sogno questa maglietta è un sogno che si avvera è il non plus ultra io credo che questa maglietta la utilizzerò sempre di più rispetto alle altre si ragazzi mi dispiace questa maglietta è un'opera d'arte è qualcosa di eccezionale questa maglietta ragazzi è un'opera d'arte è meravigliosa guardate le maniche è meravigliosa sempre con il motivo della prima maglia qualcuno non ha capito ragazzi ma questa è la mappa di Roma esatto con il lupo bello in risalto qua c'è un pezzo di Colosseo si vede sicuramente la scritta guardate i dettagli ragazzi guardate i dettagli dentro che c'era scritto no non c'è scritto figli di Dyer o Madayer c'è scritto solo sulla prima c'è scritto solo sulla prima ma giustamente mamma mia bene mezzo milione d'euro poi mamma mia ragazzi se questa cioè se tutto il resto era da 10 questa è da 10 più ok vai qua è finito tutto mi pare mi sembra di sì ma posso aprire sì non c'è sta più niente ok vai che c'è costante qua tira allora devi tirare fuori la prima cosa che c'è sta sopra sopra vai questa questa puoi pure guardare vai perché questa è la tua giusto sì questa è la tua ah la maglietta questa qua a maniche corte ogni tanto una cosa fammela comprare è giusto dire è semplice semplice è come il maglione che avete appena visto però la maglietta a maniche corte guarda ti dico è calda è calda è veramente calda per l'inverno va bene per l'inverno va bene se non c'è freddo alle braccia questa è una mano santa allora adesso devi fare molta attenzione perché c'è una scatola nella scatola eh sì la devi tirare fuori alzala e tirala fuori perché non è l'unica sì ma aspetta perché non leggere quello che c'è scritto sulla confezione levo tira fuori ecco vai eh vai l'hai prese due una la prima vabbè ha fatto quello che doveva fare bene perfetto tanto sono due ha già spoilerato vabbè mi sono venute tutte insieme quella sopra vai no aspetta ma la vendono sul sito questa è certo l'hanno rimessa in vendita è un'edizione speciale retro collection la mia prima che avete visto già nei video la mia primissima maglietta della Roma che mi è stata regalata nel lontano 1998 stagione 98-99 se non ricordo male ragazzi ragazzi la maglia col colletto in assitalia l'unica cosa che lo sponsor tecnico non è più di adora quindi non c'è eh no certo però rimane però lo sponsor quello che era dell'epoca in assitalia il vecchio simbolo della Roma il vecchio simbolo della Roma il vecchio simbolo e i lupi sul lato della maglietta con scritto a essere Roma dietro queste non sono personalizzabili altrimenti ci avrei fatto mettere dieci totti tutta la vita però che spettacolo questa che spettacolo che voto gli dai? come a quella nera 10 più appoggiala scusa che spettacolo se a questa dai 10 più secondo me la prossima gli dai 20 ma perché è sempre per me ma non è per te no vai qual è? apri è quella con lo scudo apri no no addirittura quella bianca ma 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 tu ti rendi conto sta maglietta cioè io questa non ce l'ho mai avuta ragazzi no questa no questa merita ma merita al pari se non addirittura più di quella mamma mia io sta maglietta è quella da trasferta 98-99 ragazzi io l'ho rivalutata tantissimo ragazzi ma io sta maglietta ero piccolo ma non me la ricordavo così non te la ricordavi così no ma sta scherzando cioè ma ragazzi ragazzi questa maglietta era questa maglietta era un qualcosa di eccezionale non so perché me la ricordo appena penso a sta maglietta penso a Cafu non mi chiede non mi chiede qual è il motivo ma appena vedo sta maglia penso a Cafu ragazzi è è identica cambia il colore cambia il motivo ma ovviamente la maglietta è la stessa veramente peccato che dietro non è stato possibile metterci le modifiche se no sarebbe stato la personalizzazione la personalizzazione sarebbe stata voto 11 ok allora adesso c'è una bella e una cattiva notizia buonanotte la bella notizia è che tutto quello che vedi è reale la cattiva notizia è che è tutta roba mia bene benissimo perfetto il tuo regalo arriverà al compleanno mi volevo regalare qualcosa però se vuoi un piccolo compromesso un piccolo compromesso te lo posso dare in anticipo il tuo regalo di compleanno ci è rimasto una merda che significa lo vuoi in anticipo il tuo regalo di compleanno ma poi non lo devi pretendere a novembre non è questo il tuo regalo di compleanno ribadisco è tutta roba mia ma sta qui il regalo di compleanno allora certo che voglio che fai allora vai sotto al letto qui c'è una busta qua sotto c'è una busta di là il tuo regalo è questo mi dispiace ogni tanto ragazzi ragazzi hai fatto bello qua vai e ride non guardare vai questi sono i tuoi veri regali di compleanno se vuoi ogni tanto qualcosa di questa te la presto e te la posso far indossare vai ecco aspetta che ti aspetti dietro la maglietta è un pellegrino vai guarda è bianca non c'è niente Luca con rovenone non ti era venuto il dubbio? la maglietta quella là ovviamente quella rossa che sta tutta sotto Luca tu ce l'hai già il dubbio mi è venuto però ho detto tante volte l'ha ordinata quando è e me l'hai ripresa di Luca come ho fatto l'anno scorso non mi sono posto tanto perché l'anno scorso gli hanno regalate due bravo esatto della prima maglia te l'ho presa di Romelu Lukaku SPQR mi dispiace per te va benissimo adesso lo sponsor è cambiato ma io non potevo sapere quindi questa è sicuro Camia questa è roba tua ok questo è sicuro Camia 100% la delusione negli occhi del buon Fabio diceva 1000 euro di roba ammazza quanta roba mi ha regalato a questa che mi aspetto questa non te l'aspetti già te lo dico se mi dici così non te dico Pellegrini non te dico Tibala perché ovviamente t'ho fatto la prima Tibala io si ok quindi l'ho fatto Tibala e Lukaku a Zmoon aspetta faccio vedere prima voi questa non te l'aspetti a Zmoon l'hai detto Zmoon Chris Chris Smolli ero indeciso se fatte questa o quella dei cristanti anche anche la maglietta anche la maglietta di Brian sinceramente non mi sarebbe dispiaciuto affatto bellissimo la maglia di Chris la maglia di Chris ragazzi vabbè comunque dai come regalo dubbio otto e mezza penso che va bene lo stesso ma io non guardo i soldi cioè ma che me frega cioè guarda che roba vuoi scambiare tutto questo con questo e quello no grazie te lo dico io perché quella è roba mia no no ma mi tengo assolutamente senza nessuno ti accontenti ma solo ti è piaciuto lo scherzo ogni tanto una burla uno scherzo dai c'è stato c'è stato il come si dice bellissimo il faracadute finanziario alla fine ti sei salvato in extremis nonostante la retrocessione bellissime benissimo grazie per la visione alla prossima con un nuovo video ciao rica